cari amici degli araldi del vangelo salve maria dobbiamo continuare un'altra puntata questo omaggio a donna lucilia questo omaggio per il suo anniversario natalizio di questa madre veramente cattolica non soltanto madre ma pure figlia e sposa infine in questi giorni precedenti voi avete sentito cronologicamente un po' della sua storia un po' veramente dall'inizio dall'inizio prima infanzia possiamo dire così tra i fratelli erano cinque quando volevano sapere dove c'era la sorella dove c'era lucilia non chiamavano così ma chiamavano dov'è la santa perché tra di loro avevano capito già chi era eccezionalmente buona ma era un oasis di pace perché di preghiera pregava tanto innamorata del sacro cuore di Gesù la grande devozione del secolo 19 nata nello stesso giorno e nello stesso anno di santa Teresa del bambino Gesù e sempre volendo fare la volontà di Dio degli altri arrivata l'età voleva farsi suore il suo papà ha decretato deve sposarsi ha obbedito ha accettato il matrimonio ha avuto due figli e il secondo il futuro dottor Plinio Correa di Olivera ha avuto qualche problema qualche no un problema grave nella grave sua gravidanza il medico tra le righe ha lasciato capire se non voleva abortire e subito la sua risposta è stata questa mai dire questo a una mamma cattolica la mamma veramente cattolica pensa non in sé prima di tutto ma nel frutto delle sue entrali suo ventre e che è successo ha portato la gravidanza dottor Plinio è nato con sette mesi ma vissuto 86 anni un grande apostolo un vero profeta della chiesa cattolica per i nostri giorni un altro esempio di profonda dimenticanza di se stesso è stato qualche anni dopo verso il 1912 un po' prima della prima guerra donna Lucilia ha avuto un problema serio di vesicola oggi molto semplice ma allora qualcosa che poteva facilmente portare alla morte e ha dovuto fare un intervento doloroso non c'era ancora anestesici e infine doveva provare tanto dolore nel dopo intervento e dottor Plinio si ricorderà tante volte meravigliato che dopo quattro cinque giorni di questo intervento ha potuto visitare la sua mamma l'ha trovata a letto con capelli bianchi non c'erano prima ma aveva sofferto tanto e davanti a questo quadro di dolore lei domanda se lui aveva preso tutte le medicine lui ha pensato subito come in mezzo a tanti dolori pensare in me che bella anima questa della mia mamma e questo lui ripeterà tante volte nella sua lunga edificante vita perché pure lui penserà nei suoi fili spirituali dimenticando totalmente di se stesso questo era qualcosa che ripetiva con tanta gratitudine al Signore per aver donato alla sua mamma questo fondo di amore questo fondo di amore agli altri dimenticando di se stessa dobbiamo parlare societamente sull'educazione che lei ha donato ai suoi fili certo con questo con questo imbasamento spirituale fortissimo la tensione per l'educazione era veramente grande non soltanto quello che possiamo chiamare di un'educazione per la vita di la società era una famiglia benestanti e certo voleva insegnarle le maniere come portarsi come vestirsi come alimentarsi bene ma soprattutto soprattutto la sua tensione si rivolgeva sull'educazione religiosa i principi morali e religiosi per l'educazione dei suoi figli ha scelto una governanta tedesca che sapeva insegnare il senso del dovere che aiuterà in compiere pure i nostri doveri religiosi e nei primi anni è veramente qualcosa di importante in funzione della pratica della religione della virtù donna Lucilia cercava di nutrire nei suoi figli pure l'amore al meraviglioso attraverso le fiabe meravigliose lei approfittava per donare sempre una lezione morale lei era ricercata da tutti i suoi nipoti certo che donna Lucilia si preoccupava pure con con tutta la famiglia per esempio i nipoti amavano tanto le sue storie e per questo giovedì sera cenavano tutti insieme tutta la famiglia nonostante gli adulti nella sala di pranzo principale e i bambini nella secondaria mangiavano subito loro e dopo venivano a fare segni per chiamare la zia Lucilia perché volevano sentire altre belle storie che lei conosceva e raccontava come nessun'altra persona lei aspettava un po' il tempo del pranzo in famiglia e dopo andava bene erano tutti attorno a lei perché senza conoscere le storie sapevano che veniva qualcosa di straordinario lei metteva sempre un senso morale e religioso nelle storie affinché loro potessero ricevere una espinta per essere persone con onore con parole con amore alle grandi virtù un altro bellissimo ricordo del dottor Plinio è stata la preparazione per la sua prima comunione donna Lucilia ha fatto capire che era la cosa più importante dopo il battesimo e ha chiesto è riuscita a fare con cui il prete il parroco il parroco preparassi direttamente ai suoi figli eppure aggiungeva qualche commentare e spiegazioni più profonde per preparare della più buona maniera spiritualmente questi figli per l'incontro con Gesù Dottor Plinio ha detto mamma è stata la luce della preparazione della mia prima comunione Dottor Plinio si ricordava che dopo ricevere Gesù con questa preparazione è stata una bellissima grazia che lui ringrazierà al Papa San Pio X che ha permesso ai più piccoli ricevere Gesù prima di lui soltanto con 13-14 anni si poteva fare la prima comunione e lui ha detto che è stata una delle più grandi grazie del secolo XX tornati a casa la mamma ha detto oggi niente di festa voi dovete mantenere i vostri abiti di cerimonia per pensare nel più importante che è successo la festa dopo può deviare l'attenzione al secondario voi dovete rimanere raccolti pensando pregando e domani domani faremo una festa una bella festa vediamo carissimi la sua grande preoccupazione per la formazione religiosa una pietà veramente profonda donna Lucilla si preoccupava molto aiutare a non nascere l'orgoglio nell'anima dei suoi figli per questo mai ha fatto un elogio a loro non permetteva confronti se un'altra mamma parlasse dei suoi lei volontieri accompagnava e piaceva tanto sapere delle qualità ma dei suoi soltanto se fosse qualcosa veramente necessari lo stritto necessario era la preoccupazione verso la santità l'anima dei suoi figli era quello che preoccupava principalmente lei voleva fare nascere crescere veramente buoni cristiani era lei capiva il suo principale dovere davanti a Dio aiutare la santificazione dei suoi oggi un'idea non tanto frequente e purtroppo con tutte queste cure morali e religiose così donna Lucilia preparava i suoi figli per la vita in società già un po' più lontani da lei e per affrontare le difficoltà le prove che la vita preparava per loro due e così la madre cattolica oltre di preparare certo c'era una vita di preghiera molto intensa era frequente il dottor Plinio arrivare dei suoi incontri all'una due tre del mattino e la trovava sempre vicino all'estato del sacro cuore di Gesù pregando per lui questo è stato fino alla fine della sua vita questa preoccupazione spirituale questa preoccupazione di non lasciare i suoi figli cominciare altre fare altre strade che non portassero al cielo grazie a tutti a tutti i suoi figli